Una vertenza finita male quella dell'Atria di Teramo. Nonostante i numerosi incontri promossi dalla politica per cercare di scongiurare i 55 licenziamenti decisi dall'azienda, il tavolo delle trattative si è interrotto bruscamente. I vertici dell'Atria non hanno accettato alcuna soluzione proposta dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli e dal presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino. Nel giro di due giorni inizierà dunque la procedura di licenziamento e partiranno le lettere ai 55 dipendenti che si ritroveranno senza un lavoro. Il presidente della provincia di Teramo si è detto rammaricato dell'esito. Per Di Sabatino si tratta di un'azienda che ha potenzialità e mercato ma che in questa circostanza sembra decisa per seguire un risultato finanziario con un deciso taglio dei costi. I 55 esuberi su 160 lavoratori, stando ai dati aziendali, sono impiegati nel reparto produzione e magazzino prodotti finiti, scontato il dissenso dei rappresentanti sindacali che parlano di una vicenda dolorosa in un territorio già impoverito. Secondo i sindacati le modalità di avvio della procedura non hanno consentito sin dall'inizio un confronto sereno ed analitico sulla natura degli esuberi e delle motivazioni che appaiono caratterizzate da esigenze che esulano dal contesto tecnico produttivo. Si continua però a lottare. Indetta ancora un'assemblea pubblica davanti ai cancelli dell'Atria che terminerà la sera con una festa organizzata dall'Arci per raccogliere fondi a favore dei lavoratori in sciopero. Un ultimo disperato tentativo sarà fatto il 25 ottobre prossimo con un incontro al Ministero a Roma.